Attenzione, questo video contiene in spoiler riguardanti i pacchi regalo che sono usciti stamattina su Fortnite Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi ragazzi andremo a vedere la sfida elimina nemici con armi fuori dal magazzino Dopo vado a spiegare come si fa questa missione ma adesso andiamo ad aprire prima uno di questi regali Anzi andiamo ad aprire gli altri raga provo ad andare ad aprire quello grande non so se si può aprire perché il tablano sa già cos'è Ok si si può aprire raga quindi andiamola a scuotere Ok Oh mio dio Apriamo Vediamo un po' cos'era Cosa raga non vedo niente Raga non vedo niente è un dorso decorativo però non vedo niente Oh mio dio raga perché ma che cos'è Vediamo andiamo nel negozio oggetti cioè andiamo nell'armadietto vediamo un po' Cos'è Vediamo No raga non ci potevo uscire peggio è uguale a quello è uguale all'altro raga vabbè Andiamo intanto con la sfida adesso raga La sfida ragazzi è proprio questo ovvero eliminare nemici scusate la mira eh perché era la prima partita di ieri eliminare nemici con le armi fuori dal magazzino Cosa sono le armi fuori dal magazzino sono delle armi che sono uscite dopo tanto tempo su fortnite le hanno rimesse dopo un tot di tempo su fortnite Ieri era la pistola al tamburo l'arma fuori dal magazzino ovvero un'arma vecchia di fortnite abbastanza vecchia che la rimettevano da un bel po' e quindi è tornata Basta che andate nella sezione notizia e vedete l'arma fuori dal magazzino di oggi qual è Una volta che avrete visto qual è l'arma fuori dal magazzino dovrete fare un'eliminazione con essa Non so se è ancora la pistola al tamburo perché questo video l'ho registrato ieri Comunque raga like iscrizione e supporta creator Grazie Grazie Grazie